Condannati a tre mesi di carcere, pena sospesa per concorso in omicidio colposo aggravato con il medico Massimiliano Mecozzi, i genitori di Francesco Bonifazi, il bambino di 7 anni di Cagli in provincia di Pesor Urbino, morto il 27 maggio 2017 al Salesi di Ancona, dove era stato ricoverato in condizioni disperate per un'ottite batterica bilaterale curata solo con l'omeopatia. Lo ha deciso con giudizio abbreviato il gruppo di Ancona, Paola Moscaroli. C'è amarezza, ma crediamo ancora nella giustizia, lo ha detto a caldo dopo la sentenza il nonno materno del piccolo Francesco. I genitori del bambino si erano affidati alle cure del medico pesarese Massimiliano Mecozzi, anche lui imputato, specializzato in omeopatia, che aveva consigliato prodotti omeopatici invece degli antibiotici per lenire l'ottite del bambino poi degenerata in una encefalite. Il GUP ha rinviato a giudizio il medico pesarese per il quale si procederà con rito ordinario poiché non ha fatto richiesta di riti alternativi. Il processo si aprirà il 24 settembre prossimo. I genitori di Francesco erano presenti con il nonno mentre il medico era assente all'udienza. I difensori hanno comunque preannunciato che ricorreranno in appello contro la condanna dopo aver letto però le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro 90 giorni.